Due amici stanno a chiacchierare, uno gli fa l'altro. Dicevo, mi è certo che i giovani di oggi sono proprio pochi educati, ma non si addopra più da lei. Mi ha fermato uno per strada, un ragazzetto, manco che mi conoscesse, mi fa, o che mi sa di cuore so. Porca miseria, ma guarda che è incredibile. L'altro gli fa, a casa mia i miei figli usano er voi, addirittura vedano er voi, come no? A me e mia moglie ci dicono, voi non capite niente, questo non fa per voi, voi siete antichi. Grazie a tutti.